Ciao a tutti, oggi andiamo a fare un allenamento molto intenso, veramente harder, ok? Harder perché andiamo a fare un lavoro Tabata, però la cosa bella di Tabata è che è molto veloce così, dolore sì, ma veloce così, andiamo a fare questo allenamento Harder, Tabata, eccellente per le gambe, eccellente per i glutei, così partiamo subito con il nostro Tabata, ok partiamo, ok cominciamo con il nostro riscaldamento per questo allenamento Tabata Harder, ok? Ricordate sempre che il riscaldamento è estremamente importante per preparare le tue gambe, le tue vite, i tuoi muscoli a un movimento che sta in arrivo, ok? Perché quando andiamo a fare un lavoro Tabata altissima intensità, questo vuol dire pliometrico, questo vuol dire andare a fare i movimenti che sono un po' più ballistici sulla nostra articolazione per fare tutto ciò, è meglio fare un riscaldamento. Voi sapete la mia predilizione per il trampolino, ma mi rendo conto che molto di voi non avete il trampolino a casa, così io comunque vi do anche l'opportunità di lavorare a terra, ok? Così, è ancora più importante a terra riscaldarci perché il trampolino stesso ci riscalda più velocemente, invece a terra ce la dobbiamo pensare noi, ok? Piccolo jog, piccolo jog, solo per cominciare a, si dice in inglese, get your juices flowing, ok? Fa scorrere i liquidi nel corpo, fa scorrere il sangue, cominciare a sentire i muscoli che si riscaldano perché diventano più caldi, ok? Magari sentirete un po' una piccola pattina di sudore, tutto questo positivo, spingi con le braccia, ok? Tutto semplicemente per preparare il nostro corpo a fare un allenamento harder, ok? Bello harder, però Tabata è scientificamente provato di dare più risultati, ok? Fa parte del mondo del HIIT, High Intensity Interval Training ed è Tabata, è stato creato proprio da professor Tabata in Giappone ed è questo 20 secondi e 10 secondi di recupero, ok? Molto veloce, dobbiamo lavorare molto intensamente, che rimanete qua, molto intensamente, però come ho detto saranno 3 cicli da 5 esercizi, ma ogni esercizio dura 30 secondi, così fate la matematica, è bello e veloce, continuiamo, ok? Ancora due minuti di riscaldamento, poi comincieremo con il nostro Tabata che oggi è dedicato proprio su la zona gag, ma adesso anche un po' di braccia, ok? Continuiamo, continuiamo, schiaccia i glutei proprio per riscaldare, riscaldare ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, torniamo in centro, noi andiamo a fare squeeze squat, ok? Divarico poco poco le punte, divarico le punte, sto lavorando sulla parte esterna del piede, continuo a spingere contro la terra per salire, ok? Non pensate di salire e così magari potete sbagliare con la postura, pensate proprio di spingere contro la terra e la terra ti aiuta a innalzarti, ok? Proprio lavorando sui glutei, ok? Ancora ci manca un minuto circa e poi comincieremo a fare la prima 20 secondi, ok? Slanci, slanci, continuate, gli addominali rimangono tesi, ok? Riscaldiamoci, riscaldiamoci, il primo movimento quale sarà? Si chiama walking squat, cammineremo in avanti e faremo due sbalzi indietro lavorando sui taloni, ok? Quando lavoriamo sui taloni lavoriamo meglio sulla parte posteriore della gambe e del gluteo, ci mancano 37 secondi, ok? Dai curl, ok? Cominci a sentire questo riscaldamento che sta facendo effetto, pochissime secondi, 20 secondi con tutta la forza che avete ragazzi, 10 secondi di recupero, ok? E lo faremo per i cicli da 5 esercizi, ci siamo, ok? Siamo a 15 secondi, allora la walk squat è in avanti e salto indietro, ok? Siamo pronti? Piccola marcia, 9 secondi, ci siamo quando sentiamo il via, quando sentiamo il gong, partiamo, 2, 1, 20 secondi, ok? E salto indietro, vai, cammino, salto indietro, vai, cammino in avanti e salto indietro, vai, cammino in avanti e dai, ancora 10 secondi, vai, ancora cammino in avanti, salto indietro, indietro, vai, 4 secondi, indietro e in avanti, ok? 10 secondi di recupero, step touch, step touch, ancora 5 secondi, la prossima sarà 20 secondi di jump squat, bello semplice di barico, 20 secondi, ok? Qui, lavoro sui taloni, spingi sui taloni, spingi sui taloni, dai, dai ragazzi, spingi sui taloni, ci siamo quasi, 10 secondi, schiaccia, schiaccia, schiaccia ancora, schiaccia ancora, vai, 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 3, 2, 1, 10 secondi, step touch, i prossimi sono i burpees, potete modificare i vostri burpees volendo, io li farò proprio i classici, scendiamo, ok, giù e su, vai, 20 secondi, giù e su, vai, 20 secondi, se volete camminarlo, farlo più lentamente, lo potete fare, ok? Ci siamo ancora, 5 secondi, vai, ancora, ci siamo, ok? 10 secondi, step touch, il prossimo esercizio è un jump jack pliometrico, ok? Sentirete che il battito si sta alzando, ok? Jump jack, ok? Pliometrico, a fondo, a fondo, taloni, 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 vai, vai, continuate, ci siamo quasi, 8 secondi, poi recuperiamo, tra una serie e l'altra abbiamo un minuto di recupero, ok? Relax, e l'ultimo sono semplici flessioni, ok? Vedi? Molto veloce, molto intenso, ok? 2, 1, andiamo a fare le nostre flessioni, ragazzi, flessioni, lo potete fare anche militari, ok? O potete fare con le gambe a terra, ancora 10 secondi, anche se non riuscite a fare una flessione vera, tieni la posizione e fai piccole pulsazioni verso terra, ok? Ok, eccoci qua, ok, oh scusami, allora 10 secondi, ci siamo, siamo 10 secondi, ero preoccupata, là, ok? In questa fase potete adesso per un minuto bere un po' di acqua, cominciate a muovervi però, continuate a muovervi, non fermare perché comunque è sempre importante di mantenere il movimento del vostro corpo per far sì che il cuore che sta pompando, che sta diciamo dando tantissimo forza alla vostra circolazione, viene facilitata, non sedetevi in questa fase, sempre in piedi, sempre con la testa sopra, l'altezza del cuore, bevete un po' di acqua, ci mancano 30 secondi, poi ritorneremo sulla nostra seconda serie di Tabata, ti ho detto è harder, però come potete vedere è anche molto veloce, stiamo parlando di circo, un quarto d'ora di lavoro, ma un quarto d'ora di lavoro che è molto, molto efficace, efficace proprio per darvi risultati, 10 secondi, poi ritorniamo al nostro walking, jump, squat, ancora 5 secondi, siamo pronti ragazzi? Eccoci qua, e si cammina ora, vai, vai e indietro, vai, 4, 3, 2, 1, indietro, lavori sui taloni e lavori da una bella spinta indietro, vai e spingo indietro, vai, spingo indietro, vai, spingo indietro, e stop, ricupero, il prossimo sarà una jump squat, ok? Ancora 4 secondi, divarico le punte dei piedi, ok? 20 secondi, allora, le ginocchia sono proprio sopra, non in alluce, ma in parte dito medio del piede, ok? E spingo dal talone, continui, ci mancano pochi secondi, continuo a spingere verso basso, vorrei sentire il lavoro proprio sul gluteo, ok? Ok, relax, 10 secondi, eccellente! Poi andremo a fare i nostri burpees, le burpees potete anche farli, qui, volendo modificato, ok, giù, burpees uno, e salto, vai, burpees, e salto, vai, burpees, vai, ancora 10 secondi ragazzi, potete farlo più lentamente se volete, non è necessario farlo al massimo, senti, al, diciamo, alla prima armi, perché è molto intenso, 5 secondi, e andremo sul nostro jump jack, ok, jump jack, apro, chiudo, è priometrico, ma non è necessario assaltare troppo, scendo sui taloni, apro e chiudo, apro e chiudo, e sento proprio il lavoro di quel talone che spinge contro la terra per darti un bel lavoro sui gluteo, 2, 1, relax, yes, abbiamo ancora un altro esercizio, fa 4 secondi, andremo a dare a fare lezioni, e 2 delle 3 serie di tapete sono fatte, ok, andiamo, potete anche prendere un cuscino, ok, prende il cuscino e piegare le gambe se volete fare, la cosa importante è tenere l'abdome contratto, con la schiena dritta, perché continuati, dai, ci siamo, dai, 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 ancora, ok, step touch, ricupero, la seconda serie della nostra tapete è andata, 2, 1, ok, un minuto, di nuovo, seconda serie è andata, vedi che passo in fretta, non riesce meno male, perché sto, se mi sto stancando oggi, però l'abdome è estremamente efficace, proprio per bruciare grassi, ti aumenta anche il sistema aerobici, che ci aiuta ad avere più fiato in campo, più fiato sulla corsa, più fiato in danza, insomma, qual è il tuo movimento di base quando andate a fare lo sport, perché la fitness è una preparazione atletica per lo sport. ci mancano ancora 27 secondi per andare a fare l'ultimo giro della nostra tabeta, 5 esercizi, ok, 2 minuti e mezzo di lavoro, non riesce solo 2 minuti e mezzo, sembrava molto, molto di più, però non ti preoccupare, stiamo facendo un bel lavoro insieme ragazzi, mancano 10 secondi e partiremo di nuovo con la nostra jump squat camminata, 4, 3, 2, e si parte, 1, 2, 3, 4, indietro spingendo sui taloni e spingi indietro, vai, spingi indietro, bel salto, bel salto, spingi e pondi sui taloni, non bloccare la, diciamo, la frenata con la schiena, vai, indietro, ok, step touch, ricupero, eccellente ragazzi, adesso andiamo sul nostro jump squat, 3 secondi, divarico le punte, lavoro sulla parte esterna del piede e sui taloni, ok, dai, busto leggermente in avanti, ok, non saltare con la schiena rigida, non dovete neanche saltare troppo in alto, la cosa importante è di sentire la spinta dai taloni che vanno a lavorare proprio su i glutei, 1, ok, ricupero, questi ultimi giri ragazzi, ultimi giri, ultima, proprio esercizi, ci mancano 3 esercizi, burpees, andiamo, burpees, e salta, e burpees, dai dai ragazzi, e salta, vai, continuiamo, 10 secondi, poi è l'ottima volta che la devi vedere oggi, che ho sobravisa, vai, ancora, ci siamo, ultima, ok, step touch, andremo a fare il nostro jump jack, plio, ok, eccellente per i glutei, eccellente per le gambe, andiamo, ricordate avete finito, c'è meno di un minuto di lavoro adesso, perché c'è questo, e poi c'è i nostri pressioni, avremo fatto il nostro lavoro molto intenso oggi, ti ho detto è harder, ma efficace, continuiamo, 5 secondi ancora, vai, vai, spingi, 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 vai, 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 ok, step touch, ultima, 20 secondi di flessione, posizionatevi, e si, parto dai, 20 secondi, addominali tesi, non perdete la linea delle vostre fianchi, non inarcare la schiena, ok, potete lasciare le gambe su un cuscino, con le caviglie incrociate e le ginocchia giù, dai, eccellente ragazzi, ok, recupero, eccellente, e ci siamo, 2, 1, e stop, bel allenamento, sono orgogliosa di voi, spero che vi state divertendo con Now, ricordate, dal 1 gennaio diventa ad abbonamento, e metterò tantissimo tipo di giri allenamento su questo portale, così ogni giorno, come ti gira, puoi andare a cercare quell'allenamento che ti serve, magari più rilassante, più aggressivo, medio, perché non c'è tanta energia, o fortissimo, perché se ti vuoi spaccare le montagne, ok, tutto questo è possibile su questo portale Now, grazie per averti allenato con me, e ti aspetto al prossimo allenamento domani, un bacio dall'agile!